Moltissimi dei miei allievi, man mano che vanno avanti con l'età sempre di più, quindi persone over 40 o over 50 che si iscrivono ai miei corsi, mi riportano come primo beneficio il fatto che smettono di avere dolore alla schiena o che si sentono più tonici. Allora, principalmente molti dei nostri dolori sono dovuti a cattive posture. Che cosa vuol dire? Immagina il nostro corpo come l'albero maestro di una nave. Quest'albero per stare in equilibrio ha bisogno dei tiranti e se questi tiranti sono più forti da una parte o più forti dall'altra, quindi c'è una scompensazione, chiaramente l'albero si inclina non è più stabile. Se l'albero si inclina non è più stabile noi cominciamo ad avvertire i dolori perché praticamente alle zone che dovrebbero stare in una postura fisiologica vengono compresse, sto semplificando moltissimo, e noi avvertiamo dei dolori. Perché il Kramagà è efficace? Io me lo sono chiesto perché voglio dire la nostra attività è tutto fuorché simile allo yoga. In verità quello che succede è che il Kramagà è un'attività che sviluppa le capacità motorie a 360 gradi e su diversi piani. Il Kramagà non è un'attività di duello in linea, per cui dovendo difenderti da diversi lati pratichiamo le parate, gli attacchi e le difese su diversi lati e su diversi piani per cui ci muoviamo sia in piedi che a terra con diversi movimenti. Che cosa vuol dire questo? Che la muscolatura si rafforza a 360 gradi e aiuta la persona a riacquistare in modo automatico una postura corretta. Questo chiaramente non cura delle patologie ma aiuta molto le persone ad essere maggiormente consapevoli del loro corpo e di come questo si postura durante la giornata.